Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una cosa che è un dettaglio, ma quando parliamo di sicurezza anche un piccolissimo dettaglio può fare la differenza. Andiamo a vedere come configurare Duo su Windows per fare il login. Quindi solitamente che succede? Noi inseriamo la password e fa il login. In questo caso quando inseriremo la password non solo avrai, come dire, la necessità di conoscere la password, ma riceverai sul cellulare, quindi sull'applicazione Duo, un pop-up dove ti chiederà se consentire o non consentire l'accesso a Windows. Ora, chiaramente questo, come ho già detto, è un piccolo dettaglio perché intanto un malintenzionato deve essere davanti al tuo computer. Deve conoscere la password, deve poter fare il login e comunque accedervi poi. In questo caso, supponendo che ci possa essere un malintenzionato, conoscendo la tua password puoi fare il login e, come dire, entrare nel tuo computer a tua insaputa. Magari sei fuori ufficio, magari sei a pranzo. Comunque sia, è un rischio. E tu giustamente dici, sì, va bene, ma io sto attento, mica io tuteggo la mia password. Sì, è vero, però come per esempio succede per i bancomat quando ti rubano il PIN, esistono queste piccole telecamere qui, che è talmente piccola che, vedi, eccola qui, insomma, non si vede neanche da quanto è piccolina, dove installandola in un luogo apposta io posso vedere quando dici la password. Chiaramente questi sono casi estremi, insomma. Chi è che fa una cosa del genere? È proprio perché è chi è che fa una cosa del genere che ogni, come ho già detto, piccolissimo rischio, se è possibile prevenirlo, è bene provvedere. Quindi, adesso andiamo a vedere come si fa. Per prima cosa andiamo a registrare il nostro account con Duo, che ci dà la possibilità di usare il trial account per 30 giorni. Quindi vado ad inserire i miei dati. Company name CrazyNet, select an option just me, so soltanto io. Network engine, può essere business email, può essere anche gmail. In questo caso io vado a inserire quella del mio dominio, CrazyNet Cyberspace.club. Poi, qui, dobbiamo inserire il nostro numero del telefono. E in questo caso, ovviamente, io vado a inserire il mio numero telefonico. Ed eccolo qui. Poi, I am an MSP reseller or partner, no? Ok, accetto i termini. I would like to receive a marketing communication, no? E poi il Google, I'm not a robot. And start the trial. E vediamo che cosa succede. Ok, please check your email to complete the registration. Ok. Ed eccolo qui. Welcome to Duo. Verifico la mia email. Iniziamo. Allora, creiamo la password. Questa è la master password. Che la puoi scegliere. O io uso LastPass, quindi ho quella suggerita da LastPass. Oppure ne posso inserire una a mia scelta. E io ne scelgo una. Ed ecco qua. A questo punto io premo continua. Ecco, ora dobbiamo scannerizzare il QR code. E dobbiamo installare appunto l'applicazione Duo sul nostro cellulare. Ok, adesso prendiamo il cellulare che è qui. E andiamo a installare appunto Duo. Quindi clicco qui. Scrivo Duo. E vado a installare appunto da mobile. Poi una volta installato. Vediamo. Qui dice. Tu guardi qua dice. Gateway Time Out. Guardiamo se funziona. Ok, a questo punto io gli dico. Set up an account. Set up an account. Use QR code. Ok, allowed. E ora lui mi dovrebbe far vedere il QR code. Ok. Quindi next. CrazyNet. Ok. Skip. Improver experience. Do mobile collect user data to help improve. Ok. Almost there. Ok. Ecco. Questo è il passcode. Fixed later. Quindi con questo io posso usare Duo. Perfetto. Allora. Qui vedi c'è refresh passcode. O copy. A questo punto io vado qui. Che gli dico. Aggiorna. Continua. Ok. Continua with Duo. Admin. Control panel. Email address. Save for next time. Password. La password che io ho messo prima. Ok. Login. Ora lui mi dovrebbe chiedere il passcode. Vedi che ho entrambi qui le opzioni. Duo push o text me. Io gli dico Duo push me. Lui mi manda il push qua. Vedi. Ok. Ok. Quindi adesso sono nel mio account di Duo. A questo punto andiamo a impostare il nostro accesso per Windows. Allora. Una cosa è molto importante. Dobbiamo andare a impostare l'user. L'user deve essere quello con cui facciamo il login in Windows. Quindi se io ho l'username in Windows. Per esempio Valerio. Deve essere esattamente qui dentro Duo Valerio. Altrimenti si potrebbero creare dei problemi quando si fa il login. Adesso andiamo a vedere nella mia macchina virtuale Windows 10 qual è il mio user. Quindi il mio username in questa VM è xxx. Ok. Perfetto. Allora io vado qui su add user. Anzi un attimo solo. Ok. Vado qui su add user. Inserisco lo username xxx. Faccio add user. Poi qui full name se ce lo voglio mettere. Valerio Lullini. Email. Info. Che tastiera ho qua? Italiana. Poet crazy cyberspace.lab Poi questo lo lascio tutto di default. Non ci metto niente. E faccio semplicemente save. E a questo punto io ho il mio utente. Se vado qui su users. Vedi. Total utenti 1. Ed eccolo qui. Perfetto. A questo punto dobbiamo andare su application. Su application. Dobbiamo cliccare qua su in alto a destra su protect application. Qui abbiamo molte opzioni di tutte. Di tutti i software o appliance. Per esempio Cisco. Eccetera. Che funzionano con Duo. Io qua. Per far prima scrivo Windows. Ed eccolo qua. Microsoft RDP. Two factor authentication. Protect. A questo punto io vado a copiare queste cose qui nel block notice. Perché ne avrò bisogno poi in futuro. Quindi. Int. Ok. Copy. And paste. Secret. Ok. Copy. And paste. E poi l'api. Copy. Ed eccoci qua. Il resto lo lascio tutto come si trova qui di default. E premo. Save. Ok. A questo punto io devo scaricare. Il software che dovrò installare. Dentro la mia macchina virtuale. Ok. Adesso dobbiamo fare l'enrollment dell'utente. Quindi. Clicchiando su users. Qui in. A sinistra. E poi. E sul nostro utente. Che in questo caso è xxx. Qui in alto. Come vedi c'è. Send enrollment email. E la vado a mandare. Ok. Enrollment code sent. Perfetto. Ed eccola qui. A questo punto io clicco qui. Api il link che mi dice duo. E. Ok. Qui io salto questo passaggio. Perché dice di aggiornare Chrome. Ok. Next. 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 Download the app. No perché ho l'app. Skip for now. Duo mobile recommended. Qui lui mi dice. Di inserire il mio numero del cellulare. Che mi manda il codice. Però io. Siccome voglio usare l'app di duo. Gli dico. I have. E tablet. Perfetto. A questo punto. Lui mi chiederà. Di scannerizzare il codice. Che lo vado subito a fare. Quindi. Apro l'app. Di duo. E. Usando. Cliccando su add. Aggiungo il codice. E questo. Poi. L'applicazione. Adesso sta aggiungendo. L'utente. Crazy net. Faccio save. Che è scritto. L'utente. Crazy net. Perché. Lo puoi rinominare. Come ti pare. A questo punto. Ho. Quest'utente. Nel mio. Nella mia app. Duo. E. Fino a qui. Abbiamo fatto. Adesso. Dobbiamo andare a installare. Il software. Di duo. Nel nostro Windows. E. Per far ciò. Vado a prendere. La mia. Macchina di Windows. Vm. Admin. 123. Infatti. Admin. 123. Ok. Vediamo un attimo. Che. Mi da il benvenuto. E vediamo come. Come si fa a installare il software. E. Ok. Siamo dentro il nostro Windows. A questo punto. Io vado a. Scaricare il software. Che ti faccio vedere. Perché. Sembra ovvio. Ma. Non è proprio così ovvio. Allora. Scriviamo qui. Duo. Duo. Authentication. For Windows. And RDP. Windows. And RDP. And RDP. Poi. Clicchiamo sul primo link. Qui. A un certo punto. Lui mi dovrebbe dire. Mi dovrebbe. Poter far scaricare. Il software. Abbiamo un po'. Eccolo qui. Be sure you read. Be sure to read. Through. Tesis instruction. And bla bla bla. Ok. Io faccio download. E la scarica. Ok. A questo punto. Andiamo a installare l'applicazione. Quindi. Vado a aprire. Duowin login. Ok. Aspettiamo un attimo. Quindi next. Qui. Qui dobbiamo inserire i dati che abbiamo copiato prima. Quindi. API. Dock home. Eccolo qui. Poi. Integration key. Quindi. Copia questo. Copia. Poi dopo. Andiamo a copiare la secret key. E andiamo avanti. Qui. Vediamo un po'. Use auto push. Sì. Perfetto. Next. Enable. No. Enable. Niente. Avanti. Avanti. Installa. Ok. A questo punto. L'installazione è fatta. E vediamo che. Che cosa succede. Allora. A questo punto. Noi possiamo fare. Un bel logout. Vediamo un po'. Logout. Chiudi. Disconnetti. Esci. Perfetto. A questo punto. Noi mettiamo la nostra password. Ed eccolo qua. Su. L'applicazione duo. Sul cellulare. Mi è già. Comparso. La. Il pop up. Dove mi chiede se. Approve o dene. Quindi. Insomma. Consentire oppure bloccare. Questo accesso. Io dico. Approve. E ti diamo il benvenuto. Quindi. Operazione. Perfettamente. Riuscita. Grazie aver guardato questo video. Spero che vi possa essere utile. Se ti è piaciuto. Lascia un mi piace. Se non sei iscritto al canale. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale.